i new noises. Facciamogli un grande applauso. Benvenuti, benvenuti ragazzi. Allora intanto ricordo sempre che siamo anche in diretta streaming su Facebook, sulla pagina ufficiale di Sanremo Rock, quindi saluto, salutiamo anche tutti coloro che ci stanno seguendo insomma in collegamento. Buonasera. Allora, con chi posso parlare di due? Vabbè, facciamo con questa bella signorina, eh? Allora, intanto... Prova, prova. Ecco, come ti chiami? Ciao, sono Elena, piacere. Grazie per la signorina innanzitutto perché tanto signorina non sono, però grazie. Figurati, vuoi presentarmi intanto gli altri membri del gruppo? Sì, certamente. Allora, l'altro cantante insieme a me è Francesco, che è anche l'autore della maggior parte dei nostri testi. Poi abbiamo il compositore, nonché chitarrista, il nostro genio, Pier Giorgio Annibale. Grazie. Poi alle tastiere abbiamo Matteo. Grazie. Alla batteria abbiamo Marco. Marco fai un cenno? Eccolo. Poi all'altra chitarra abbiamo Filippo. Anche lui scrive dei brani insieme a Pier con il nostro gruppo. E poi abbiamo al basso il nostro grandissimo Mario. Io sono Elena. Qual è l'emozione di calcare questo palco? Allora, guarda, l'emozione è tantissima. Cioè, non capita tutti i giorni stare al teatro Aristonna che penso che sia il non plus ultra, cioè proprio il massimo che uno possa... che è un sogno, cioè per me è un sogno. Un sogno a tutti gli effetti. Quali sono i vostri progetti per il futuro? I progetti noi in autunno dovremmo uscire con il nostro primo CD e poi niente, insomma, se continuiamo ad avere lo stesso entusiasmo, continuiamo a fare musica. Buona esibizione a New Noises. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.